È fondamentale! Offre la pizza Sam! Fatti vedere Peter! Bravi! E giochiamo anche per Manu che non può giocare Bravo! Metti pressione! Bravo! Qua abbiamo il nostro grande difensore che dopo aver seguito il mio consiglio di tirarsi il dito ha pensato bene ad andare a farselo vedere veramente e siamo ridotti così Quindi qual è la diagnosi? Parola troppo difficile Eh esatto Cosa ti hanno detto che hai? Eh mi sono rotto il mignolo mi sono fratturato il mignolo e dovrò levarlo tra una settimana Il mignolo togliamo? No? Il getto? Sì Ok Signori come potete vedere abbiamo perso il nostro difensore il nostro condottiero della difesa colui che gestiva tutto il rapporto difensivo l'abbiamo perso per un po' ma quando tornerà si sentirà augurateli in bocca al lupo perché ne ha bisogno, ne avrà bisogno Ragazzi guardate chi si è venuto a trovare oggi Senti! Senti! Parlando di domenica quello che c'è sto domenica mattina vi rinnoviamo i complimenti per la partita e la prestazione stiamo vedendo che c'è grande margine di crescita state crescendo veramente tanto su tutti i punti di vista ma soprattutto state applicando quello che in allenamento andiamo a fare tutto quello che viene proposto nell'allenamento stiamo vedendo che lo state facendo anche in partita e che piano piano stiamo cercando di inserire tutto quanto quindi tutti quelli che sono gli aspetti per migliorare e crescere sotto ogni punto di vista nel calcio ovviamente come ci sono lati positivi ci sono anche lati negativi ovvero qualche mancanza da parte nostra in determinate situazioni che andremo a lavorarci sopra e andremo a migliorare in particolare in particolare una cosa che abbiamo visto da domenica è stato il sostegno signore tante volte avete questa abitudine di dare palla e poi fare mille sovrapposizioni oppure di scappare invece secondo noi oppure da quello che si è visto appunto nella partita e si è evidenzata la partita di domenica sarebbe opportuno che quando il compagno riceve di spalle ovvero che può essere l'attaccante centrocampista i compagni diano sostegno detto questo lascio parola appunto al mister che vi dirà due cose sulla partita di domenica ma soprattutto vi spiegherà quello su cui andremo a lavorare questa settimana ok ragazzi allora molte cose le avete sempre io vi dico sul concetto di sostegno che è una cosa che in realtà abbiamo già inserito anche negli scorsi allenamenti dobbiamo essere veramente bravi a lavorare in sostegno perché si chiama così al compagno passo palla gli vado sotto Giuse centrocampista no? è importante che va a dare questa mano all'attaccante perché spesso l'attaccante è girato di spalla alla porta come ha detto Sam e non riesce a girarsi da solo io voglio dirvi solo due cose inerenti al discorso social poi adesso col mister ne abbiamo parlato un po' magari ci dite anche la vostra quando vedete i video che Sam mette fuori ok io vi chiedo una cosa guardateli con occhio critico nei vostri confronti perché se io prendo il video solo per vedere che ho fatto l'euro goal solo per vedere che si ah tizio mi ha scritto ma che bravo che è il numero 10 non vi serve a niente aumentate solo il vostro ego e quello non va bene voi dovete aumentare la vostra autostima quindi il goal bello va bene lo guardo e da quello mi tiro fuori la forza per dire ok ci sono sono bravo lo devo guardare ho fatto una cosa positiva ok Diego hai fatto un bellissimo goal nel video che è uscito ok però io vorrei che oltre il goal voi guardaste altre cose perché ci sono altre cose e io le ho viste quindi compito per casa guardatevi quel video non per vedere tutte le giocate che vi sono riuscite ma guardate quello che potevate fare meglio bene adesso abbiamo chiamato una persona molto speciale che vi dirà esperta di calcio molto esperta di calcio che ha vinto tantissimi trofei e quindi vuole dire due parole prendetele seriamente prego prego due parole due parole daccici dentro è il massimo che posso dirvi perché veramente io sono il campione degli scarsi come sapete e devo prendere esempio da voi quindi ragazzi fatemi vedere quello che valete perché domenica ci sarò pure io let's go dai possiamo andare let's go dai 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 l'allenamento è lo specchio della partita quindi tutto quello che provate a fare l'allenamento poi in partita vi viene automatico ma perché? perché lo imparate ok? è una questione di abitudine quindi più vi abituate ad imparare quello che fate nell'allenamento meglio in partita vi riescono le giocate che provate noi ragazzi ci siamo oggi è nuovamente weekend oggi è sabato eh questa settimana abbiamo il doppio impegno giochiamo sia oggi che domani mattina perché dobbiamo recuperare giustamente la partita quindi ci sarà bisogno di tutti quanti questa settimana in particolare abbiamo lavorato su allora è male molto male perché significa che siete disattenti partiamo malissimo oggi partiamo malissimo il sostegno significa andare in appoggio quindi sotto quindi compagno girato di spalle che riceve palla guardando verso la nostra porta deve avere un compagno sotto ovvero il sostegno avete capito ragazzi? sì avete capito che lo significa? quello che dovete imparare e che bisognerà imparare in questo percorso è sapervi muovere in maniera autonoma in queste partite avete visto che io parlavo tanto dalla panchina e tante volte vi dicevo anche che sceglie da fare ok ma perché? lo facevo per darvi la mano e per aiutarvi il nostro percorso serve perché arriviamo all'ultimo partito di questo mattinato dove io panchina non devo dire niente e voi dovrete fare tutto in maniera autonoma una cosa sorriso perché vi dovete divertire ve lo ricordo anche perché stasera offre la pizza Sam un applauso bravo grazie Sam oggi dobbiamo divertirci e proprio fino all'ultimo secondo giocare 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 ok? mi raccomando siete carichi? sì dai allora andiamo dai 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 ragazzi diamo il massimo diamo il massimo ragazzi con sorriso eh dai eh e giochiamo anche per Manu che non può giocare mi raccomando andiamo più forti degli altri partiamo fortissimi ok se partiamo fortissimi il loro morale scende ok? sì quindi mi raccomando eh dai che stasera poi io farò pizza a tutti dai dai ieri bravo pepe bravi 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 bravo metti pressione bravo 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 cri 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 bra Bravi! Va bene, va bene, va bene! Peter! Bravo! È questa! Bravo, qui! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene! Bravo, Amir! Sali, 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 sali! Bravo! Anche al tiro! Sì! Va bene! Buona! Bravo, Giulio! Bravi, bravi, bravi! Va bene, va bene! Stai sull'esterno, Chris! Sull'esterno, non devi passare lì! Bravo! Bravo! Buona è questa! Anche al tiro! Bravo! Grazie, CQ! Bravo, CQ! Cristian! Cristian, hai visto? Che va in difficoltà! Bravo, Chris! Di là, di là! Buona! Va bene, va bene! Bravi, raga! Bravi, ragazzi! Sì, quella, quella, quella! Spermai, scappa, Ale, scappa! Va bene, bravo, 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 CQ! Siamo partiti un po' più frenati. Nonostante ciò, abbiamo saputo tenere botte. E su questo vi devo fare i miei complimenti. Però, se vogliamo portarci a casa la partita, dobbiamo fare di più, ragazzi. Dobbiamo continuare a fare di più. Stiamo giocando troppo da soli. Ci intestandiamo nei dribbling, non va bene questa cosa, sì. Non va bene. Cristian, ti sono venuti due, tre dribbling. Bravissimo, Chris! Bravo! Però, non essere prevedibile. Non andare sempre dritto per dritto. Cerca di giocare con i tuoi compagni. È fondamentale. Sia per i tuoi percorsi di crescita che per la nostra squadra. Ragazzi, sono bravi, eh. Cioè, non è che... Cioè, non è che loro lo stanno facendo. Sono bravi. Quindi, dobbiamo cercare di manerli su un pezzo. Ora, atteggiamento di più. Giochiamo di più tra di noi. Facciamoci vedere di più, ok? Muoviamoci senza palla. Cioè, siete fermi. Giulio, muoviti senza palla. Aspettate che succeda qualcosa. Dovete essere più attivi. Soprattutto senza palla. Con la palla per forza, siete attivi. Senza palla, ok? Dai, 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 dai! Forza, 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 forza! Bravo! Bravo! Sì! Bene in mezzo! Sì! Oh, va bene, va bene, va bene, va bene! Buona! Va bene, va bene, va bene! Buona e fallo! Buona! Dai che passa, dai che passa, dai che passa! Dai che passa! Sì! Vai Diego! Bravo Diego, bravo! Bravo Diego che ci hai creduto, bravo! Dai rega! Primo Peter! Buona! Gran palla! Bravissimo Tri! Gran palla, gran palla! Buona Ale, buona, buona, buona ancora! Bravo Ale, bravo Ale, giusto! Sì, Adi! Solo, arriva! Bravo, di là! Calma! Bravo! Bravo! Bravi! Buona, buona, bravi, bravi ragazzi! Perchè puoi anche vedere un po' Sì! Bravo! Buon appetito! Bravo! 1-3! No! Dai Chris! Guarda Peter! Dai, ci siamo, dai, ci siamo, dai! Meglio! Tira! Tira! Solo! Solo! Va bene Chris, bravo Chris, bravo Chris, eri solo eh! 1-2! 1-2! 1-2! 1-2 ancora! Tira! Tira! Vai! Bravo! Angolo, angolo! Vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Bravo! Vieni, 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 vieni! Bravo, Diego! Bravo, 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 bravo! Bravo, Diego! Sì! è lì la camera lo so lo so si stava provola bravo Ale bravo ale bravo ale bravo ale bravo ale bravo ale va bene bravi 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 tutti che soddisfazione quando ci ascoltate che soddisfazione questa è la dimostrazione che quando vi applicate lì con la testa e giocate di squadra riusciamo a fare bene questo tempo è la dimostrazione perché avete giocato di squadra e ci avete dato di squadra tutti quanti perché non avete mollato su un contrasto non molliamo niente state correndo ci state dando non state facendo calciare che è la fase più importante perché sono bravi se calcio in porta se ne facciamo calciare in porta non combinano niente quindi bravissimi terzo tempo dominiamolo nel senso che facciamo bene come così come il quattro ok ci crediamo ci crediamo seguilo ale seguilo eh buona vai 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 sei bravo diego bravo giù eh buona bravo 80 Va bene, vai, vai! Ma perché mai ce lo non può Darla oltre le due? Oh, si vengono qua via! Dai, Paolo, dai! Buona, va bene, va bene Sì, tranquillo? Sera! Ti fa tornare a metto quella! Buona, buona! Bravo, Chiago, bravo! bravo! vai 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 vai! bravi! bravo diego! bravi! bravo diego! giochiamo anche con la punta! bravi eh! bravi tutti eh! bravi 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 tutti eh! oggi avete dimostrato il significato di squadra e il significato di rimanere sul pezzo stare sul pezzo adesso andiamo a affrontare il quarto tempo sempre con la testa non stacchiamo niente perché anche questo quarto tempo è sinonimo di mentalità eh! perché la nostra mentalità deve essere quella di guardare alle prossime partite ok? e di crescere in ogni tempo! in ogni tempo! bravi Giuse! bravo! si! si! vai Diego vai! Diego è il suo! in mezzo Diego! chiamala Paolo! nooo! nooo! arriva arriva! staccava bene Elisgra! fa! bravo Frenci! bravo Frenci! secondo me era gol! bravo Frenci! bravo Frenci! bravo Frenci! bravo Thiago! bravo! fuori! sinistro! bravo! bravo Frenci! bravo! bravo Frenci! bravo Frenci! bravo! bravo Thiago! Vai Giulio! Uno due, uno due, uno due! Tira! Bravo, bravo! Sì! Bravi! Tasi! È avvisato il discurso? È avvisato il collo? No, è buonissimo! No! No, no! No, no! No, no! No, no! Gioi dai! La mano lunga! Dai Gioi dai dai vabbè gioca dai! Sìììì! E Versadilla! Vanavarci! Come va Cristina! Vai Vergello! C'è! Nooo! Ci sono dagli! AAAAAAAAAAAAA!!! Si è la merda! No, no no no! Propraccio! 들� selection! Propraccio! Brava Mic! Bravo! bravo giulio è ora di far gol bravo giulio dove vuoi libero libero non ci credo ci credo non riesce segnare bravo bene dai che viene dai 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 bella roba va bene va bene ma ti bevi nooo è una carole e una carole viva bravi ragazzuoni si conclude qua questa ennesima partita questa splendida partita di campionato nella seconda parte di stagione andremo a fare un altro girone molto probabilmente perché a seconda del posizionamento appunto in questo mini campionato andremo poi affrontare un girone a piuttosto che un girone b sbaglio verde o rosso scusate scusate un girone verde o rosso non a e b non perché non esistono i giorni a e b ho letto male io il fascicolo sanitario detto questo facciamo i complimentoni ai ragazzi quest'oggi perché hanno saputo interpretare bene la partita in maniera molto molto sincera molto molto sincera quello che abbiamo chiesto l'hanno fatto sì e no perché alla fine abbiamo lavorato molto in allenamento sul sostegno poi si è visto perché alla fine qualche giocata l'hanno fatto dando appunto sostegno l'importante è che lo acquisiscono come bagaglio personale per crescere perché come ho ripetuto prima della partita l'importante è che imparino sempre più cose e sappiano fare alla fine di questo anno splendido più cose in mezzo al campo quindi che siano più completi poi non so come avete interpretato voi la partita che alla fine è andata molto bene abbiamo diciamo dominato tutti i quattro tempi non era semplice perché alla fine inizialmente loro ci hanno dato tanto filo da torcere ed è e sono una buona squadra sono dei bravi ragazzi noi abbiamo saputo stare un pochino più sul pezzo e non concedere soprattutto occasioni che è stato la forse la chiave di questa partita è stato non concedere occasioni nitide agli avversari perché secondo me se avessero comunque sia se noi avessimo concesso delle occasioni in più magari poteva essere stato una partita diversa lascio la parola al prof il maestro della sapienza scusate non ci confondiamo eh no beh direi è andata molto bene una buona partita a livello di gruppo a livello di gruppo stiamo andando bene si bella voglio lasciare la parola al capitano vieni 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 capitano vieni capitano allora come hai visto questa partita come allora questa partita siamo cominciati silenzio Abbiamo cominciato troppo singolarmente, non giocavamo troppo da soli, ma ti si è visto, siamo usciti a vincere il primo tempo, a fatica. Poi dal secondo abbiamo iniziato a giocare di squadra, al terzo è successo un casino, i buoni non si capivano più, però è andato bene. Autoanalisi, perché dobbiamo imparare ad autoanalizzarci e già che ci siamo ci tengo a dire questa cosa. Vabbè, non siamo tutti, però mi raccomando ragazzi, l'atteggiamento fondamentale è fondamentale. Detto questo signori, oggi abbiamo fatto bene, abbiamo messo un tassello in più su questo percorso. Vi ripeto, non importa tanto la vittoria quanto il percorso, perché l'obiettivo di questa serie è riuscire ad andare a fare un percorso che possa partire da un punto A ed arrivare ad un punto B. Ok Pietro. Che possa essere appunto di crescita per i ragazzi, perché sono giovani ragazzi, giovani talenti che possono magari emergere nel corso di questi anni. Noi siamo qua appunto apposta, il prof della tecnica calamosca è qui apposta, il maestro della sapienza è qui apposta e io sono qui apposta. Detto questo, penso che non ci sia altro da dire. Noi vi ringraziamo immensamente per il supporto che ci date a questa nuova serie che abbiamo creato e abbiamo messo su in piedi. Fateci sapere se... Avete un piede? No! Taglia, taglia! Oh, taglia! E detto questo, signori, vi ringraziamo, fateci sapere appunto nei commenti cosa ne pensate di questo episodio e di cosa pensate in generale e di quello che potremmo anche migliorare, perché noi siamo perfetti, siamo qua per questo, quindi possiamo migliorare e bisogna per questo. Ci vediamo al prossimo video, dai enjoy, è tutto! Ci vediamo al prossimo video, let's go, forse enjoy!